bella vecchi trapani per commenti su canale Granas e oggi si gioca a scialli incredibile si gioca a scialli ma si gioca per il titolo della quarta divisione perchè già siamo passati in terza esatto e abbiamo due partite per vincere e perderemo tutto il duro ma quando mai capitano sti cose penso sia un po è mai capitata sta cosa? mai forse una volta si abbiamo perso due partite si vabbè ma non era in terza divisione no quindi proprio agli inizi però io vorrei vincerla subito così se levamo tutti andiamo subito in terza da domani si comincia la terza divisione no no vorrei vincerla subito vabbè ma che dico io neymar 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 vaffanculo 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 fuori dalla porta è uscito oh oh mamma mia che sta compitoso componente bella la guerra 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 perché la tira così mamma mia ma perché la tira sul primo palo la tira in bocca mamma mia mamma mia grandissimo oddio no sì ma abbiamo quello che spostature così ne vogliamo parlare? sì capito tipo fogliolina vai che la ripresa vai che la ripresa palla grande bomber grande bomber e che lo fai oh no ma perché tira così? ma che c'ha? no oddio di maniera di fisico proprio depotenza caccio d'angolo c'è lo schema lo schema si chiama gherika kill lo schema si chiama gherika kill eccolo oddio benzer col destro no vivo è grata oddio che fucilata micidiale ma senti che fucilata micidiale benzer col destro il portiere la farà e l'ha inviato il palo via via fatamma no no manca la farà c'è anche il rischio di fuori gioca bello 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 a via prima lui tira a palla no porco 2 3 ma ha fischiato il fallo per lui bello bello stop agguero c'è mezzo di maria agguero 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 ancora agguero mamma mia i giochetti o guero no che cazzo ti sei maniato non ci voglio crede vai ti e tira eh potrà va bene ma che cazzo è delle visione forse buono buono vabbè i vecchi travani ci sono bello mi resta mi resta mi resta il taglio di azare buono ho presa fuori e chi me su cui buono 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 no no aceto buono non ce voglio credi ma no che so stagare dai dai buono non ce posso credere ma che ha preso ma che ha preso 1 2 che si chiude ecco il gioco no 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 non ce posso credere questo tu diri tu ma beh non ce voglio credere no 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 ricordi ricordi che cazzo provoca un cuore la cosa non c'è non c'è niente problema non so bene inserla parola mamma mia oddio tutti i gol strani comunque penso oggi non credo che la cosa è che la nostra sta lega il pareggio è come una sconfitta, non cambia il cazzo 3 punti 17 punti, manca una partita come va va salutiamo la quarta divisione e ce ne andiamo in terza vabbè siccome è rimasta solo una partita abbiamo deciso di fare due partite insieme quindi vedete anche la partita successiva a questa per cercare appunto di vincere il titolo quindi oggi avrete due partite perché vorremmo spiegarsi alla terza dai, comani se comincia la terza questa è la serie A ultima partita della quarta divisione dobbiamo vincere per vincere il titolo altrimenti ce ne andiamo comunque in terza finalmente direi finalmente dopo 4 volte la quarta mi pare anche voi non ce la facevate più ma adesso per voi che siete rimasti dal nostro fianco vedrete la terza divisione siamo sul poggio delle divisioni 4 mamma mia paratone paratone per lui calcio d'angolo per carlitos batte l'angolo la battuta corta 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 Proprio d'esterno una merda però La bomba Ok Amministrano bene il pallone Tanto c'è Un quadrato Stava sulla linea Del fuorigioco Ma è bello il pallone No, ho caricato piano Anche Vai anche Oh, cazzo Da cosa ne riesce Benissimo, il barco da soli Oh, pa, pa Tutto questo di un po' Mamma Mamma A lui Buonissima Grande stop per lui Taccitua Taccitua, ritami sto pallone Pezzo di merda Il mio Il mio Suo eh Dai io però animo eh Cahil Cahil A culo però è entrato Guarda 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 È entrato È entrato quel quadrato Vai Mettuta il quadrato Bello, bello Ma importa, ma importa Quadrato, 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 la schifo, il quadrato, il tiro Che cazzo ha fatto Nocardo Che cazzo ha fatto C'è non quello prima Da merda Non c'è questo Vabbè, sei stupido Dai, devi facli Cioè, divesse punito Olè Sei il coiffo Sei con il amore Sei con il amore Forza, sei C'è il coiffo Ma non c'è Cioè, divesse così Devesse punita Per подi Catherine che non lo devono fare quel coso cioè soprattutto quando c'è uno che ti sta ben conto soprattutto quando hai già preso un gol così si ma noi vanno intelligentemente controlliamo mamma mia quadrato quadrato oggi è arrestabile guardate ma che hanno il giocatore mortacci sua vedete chi non gli dice che ha la mano alzata ottimo Gary Gary come una leggenda la perduta per Hazard 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 Hazaaaa qua ce volevo passare c'è raga ne sacano lì il titolo questi se ne vanno sai no no biciò il titolo guardate i soldi che toccano mamma mia vabbè ragazzi abbiamo deciso di mettervi tutte e due le partite insieme a questo punto si e che perché comunque erano due partite cioè era inutile mettere in altre episodi da notte perché tanto la cosa importante è andare in terza di visione abbiamo fatto 9 mila credini dai gran als e tutto speriamo ci sopportiate anche la prossima divisione e domani si comincia con un altro stagione esatto bella bella ciao 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 ciao